Se sei vivo, respiri. Se respiri, parli. Se parli, chiedi. Se chiedi, pensi. Se pensi, cerchi. Se cerchi, provi. Se provi, impari. Se impari, cresci. Se cresci, desideri. Se desideri, trovi. E se trovi, dubiti. Se dubiti, ti fai delle domande. Se ti fai delle domande, comprendi. Se comprendi, sai. Se sai, vuoi sapere di più. E se vuoi sapere di più, sei vivo. National Geographic Channel. Live Curious.